calma eh passi uno davanti a me non mi ha visto non mi ha visto girato aspetta aspetta c'ha visto c'è un cecchino c'è un cecchino scudato guarda dove è l'altro fi di troia uno shot tiralo su no l'altro pure non ci credo non puoi capire cosa è successo questo la devo registrare questo è da panic no ma visto dalla mia visuale è proprio c'è grazie a tutti